benvenuti nell'intervista tripla più attesa di tutta youtube italia toni e i pants, toni rednose, jody cecchetto che c'è toni rednose il cognome marcio ragazzi ma che cosa succederà se questo video raggiungerai 100.000 likes in un giorno ebbene intervisteremo qualcuno del collegio 4 anzi del collagio 4 ci credete si aiuto nome reale ma inizio io si io vado si io così oppure facciamo così così non sembra che voglio il potere del dio sei in mezzo quindi ce l'hai nome reale jody cecchetto antonino pantò reale il cognome instagram jody jdc toni e i pants 75.000 follower il tuo instagram marcio rednose trattino basso official followers totali 207 mila 8 ma devo contare tutti i social? eh saremo non so 700.000 followers te l'avevo detto che anche youtube contava sto marcio ma io sono un po prima donna lo sai in che senso? non ho parole followers totali comprati zero ah no aspetta no non è vero ne avevo comprati 500 quando appena avevo aperto instagram ma che marcio si non è mai sono marcio io zero ovvio cioè ma raga secondo voi cioè spendo tutto in studio di registrazione quanto spendi per cagate? quanti anni hai? 25 ci di pure pensare 25 ma cosi che domande sono scusa? 29 si sei anni fa sei fidanzato? eh boh non lo so si sposato ma lei lo sa? eh quella la cosa cioè non è che boh non lo so certo una volta al mese se ne accorge da quanto vi conoscete voi tre? io mi conosco con rednose dal 2014 mentre con i pens 2015-2016 ma poi la nostra amicizia è nata tanto forte un anno fa 2015-2016 la nostra amicizia è molto forte o no? ma amicizia in che senso? no io lavoro soltanto va bene grazie grazie com'è nato questo trio? ci siamo messi insieme più o meno un anno fa no quando fondamentalmente Tony aveva bisogno di una mano perché ho visto un'intervista a Marcia che aveva fatto a Yuri Rambaldi che salutiamo con degli echi incredibili nella nostra agenzia allora ho detto perché non ti posso dare una mano metto la mia camera metto il mio microfono e ti do una mano da dietro la videocamera poi cosa è successo Tony? continua tu più avanti abbiamo deciso di fare i video nello studio di questo marcio qua alla mia sinistra è un bel giorno Gui ha deciso di intervenire mentre giravamo il video insultando i genitori dei ragazzini del collegio 3 io a casa ho visto il filmato dove Redno sbraitava e da lì cosa è successo? ho tutte le ragioni perché mi hai detto che ci mettevi due ore ce ne hai messe sei quindi cosa fai? cosa è successo da lì? cosa sei diventato? tuo padre spesso noi vi vediamo nelle tendenze sapete perché? perché siete il trio più forte di YouTube Italia Tony Ipens Tony Rednose Jody Cicchetto basta non ti co***o pure dal vivo va bene va bene tutto però cioè Jason basta basta Jason adesso però leggiamo qualche domanda che hanno fatto i vostri iscritti i nostri iscritti? cioè ci leggi quello che abbiamo scritto? ognuno di voi descriva quello che non sopporta degli altri due Anthony è paranoico e Rednose è bipolare folle Jody è un perfettino Rednose è pazzo non sta bene hanno ragione questa è la risposta Jody ha paura a sporcarsi Tony è più terrone di sua madre ed è nato qua magari è pure le ragazze avete mai litigato a tal punto da poter compromettere il canale? tutti i giorni ma quando mai? tutti già appena adesso prima di girare questa questa intervista non è vero? sì sì Tony sì ma di chi è? no il canale poi rimane suo cioè non è che Massimo ci sfant*****o ah capito? cioè ci sfant*****o già è giallo questo video ci sarà l'amino c'è un equilibrio zen nel nostro rapporto sicuramente deriva da te questo equilibrio zen certo sei tu che mantieni meno male a che età avete perso la virginità? 18 15 16 com'è stata la vostra prima volta? è stata bella con una ragazza che ai tempi a cui volevo molto bene quindi è stato il giorno del concerto di Fedez ai magazzini sono stato veramente cattivo perché dopo ho detto che m***a però in realtà era bellissimo è stato bellissimo non so perché mi è venuto da dirlo è stata un'ora molto intensa cioè non mi aspettavo questa performance sai pensavo eh arrivo tac 3 minutini e invece molto bello mi è piaciuto me la ricordo ancora boh quasi ci perdo la vita ah è vero ah eh ma non possiamo dirlo ah è vero è un altro video qual è il vostro sogno più grande? poter essere un attore professionista lavorare di questo e anche un presentatore in realtà poter avere un late show tutto mio sarebbe veramente un sogno grandissimo anche fare lo stand up comedian però non sono ancora in grado riuscire ad unire comicità e musica chi è il playboy del gruppo? ovviamente Jody Jody sì ma solo perché sono l'unico semi single Jody poi lo conoscono e io ah certo e poi ti conoscono eh Tony e poi mi conoscono e nessuno e Jason dopo Jason è finito tutto cosa avete pensato dopo che avete visto tutte le views che ha fatto il vostro primo episodio del collegio? io sono andato fuori di testa tra l'altro anche pensando che abbiamo montato la notte prima impazzendo perché c'era stato un problema col file un bordello però contento è stato bellissimo non mi sarei mai aspettato di fare all'incirca 3 milioni e mezzo di view 4 milioni dalla prima puntata quindi un risultato enorme e ringrazio tantissimo voi che avete creduto in questa nostra cosa il mio unico scopo era far chiudere il canale a Tony ma mi ha inglobato ok parliamo di cose serie raccontate il rapporto sessuale più strano che avete avuto fammi pensare sulle scale di un condominio di una mia ex 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 dopo aver bevuto del vino rosso in un piadinaro già solo quello no la cosa divertente è che non è che ce l'ho fatta tanto io ho fatto locale caldaie da locale caldaie ascensore fino all'ultimo piano così fino alla fine della performance per evitare i vicini dietro il divano della hall di un hotel preferireste essere famosi ma poveri o dimenticati ma ricchi dimenticati ma ricchi dimenticati ma ricchi dimenticati ma poveri ok ecco più zero alla fine film e serie tv preferiti film preferito lei che è una storia d'amore con Siri praticamente e serie tv preferita Breaking Bad film preferito la grande bellezza serie tv preferita in questo momento Peaky Blinders film preferito c'era una volta in America serie preferita volevo dire Breaking Bad ma l'ha già detto Jody quindi Black Mirror vi è mai capitato di essere stati arrestati? io no uno di noi sicuramente si io si ho rischiato da piccolino una volta mi hanno arrestato perché ero nudo e sventolavo le mutande di fianco alla prostituta sono uscito perché io ho detto che stavo girando un servizio per le iene che non era vero e lei? lei chi? caporale? dimmi tre tuoi pregi e tre tuoi difetti io penso a volte di essere di bell'aspetto penso di essere molto informato e sono anche simpatico difetti? a volte mi preoccupo troppo per le situazioni sono negativo a volte pessimista mi faccio troppi castelli che poi non sono così simpatico? penso di essere sempre il migliore di tutti ma in realtà non è un pregio forse e sono molto prima donna in assoluto in quello che faccio difetti sono molto prima donna penso di saper fare le cose meglio di tutti e sono simpatico sono molto ansioso ma pregi la simpatia la sincerità il fatto che affronto le cose con passione difetti invece a volte sono pesante troppo impulsivo completamente fuori controllo youtuber preferito maschio Luis Jack Black Lil Dicchi e femmina? Sofia Viscardi Virgic la De Bortoli non è una youtuber allora Beatrice Cossu youtuber che odi ovviamente non lo dirò ma non c'è non c'è odio tutti quelli youtuber che dicono che odiano chi fa le reaction al collegio io non sono così informato cosa pensate di tutti quelli che vi copiano il format? io penso che non è che chi ha inventato la ruota poi ha fatto un brevetto sulla ruota noi abbiamo portato questa cosa su youtube l'importante è farla per divertirsi e meglio degli altri non abbiamo il copyright sui reaction o sui programmi televisivi che portano i nostri altri colleghi nessuno copia altri non ci sentiamo derubati nei nostri contenuti anzi ci sprona a fare meglio rispetto a prima quindi tutto di guadagnato per noi se gli altri fanno le cose come noi come dite voi che marci si facessero il loro format imparassero l'italiano detto da un cultore della crusca sempre meglio di pacello si scherza si fareste mai un film un figlio un film certo come no io fare un film assolutamente la cosa di aver conosciuto anche loro due mi fa venire ancora più voglia di farne uno comico molto spinto in realtà quando era uscito questo film non l'ho molto apprezzato ma adesso ho la maturità giusta per dire vorrei fare una cosa tipo aligie da piccolo ti facevi rispettare o no? ma da piccolo in realtà ero non dico bullizzato ma ero uno dei più deboli in realtà perché tutto fragilino tutto magrino in più ho la testa un po' a pera e mi chiamavano anche testa a pera beh io ero un po' il giullare della compagnia facevo ridere tutti non c'era bisogno di di farmi rispettare o meno cioè ci divertivamo e basta non avevo mai avuto problemi di bullismo all'inizio non tanto poi ho scoperto la forza dei cugini cazzo ecco e anche la sedia pericolante come ti vedi tra dieci anni? ma fra dieci anni spero di essere nell'ambiente dello spettacolo di avere già o di poter presentare fra dieci anni un importante programma televisivo e comunque far parte di questo mondo e poter avere una casa di proprietà beh sei mesi a Las Vegas e sei mesi in Italia quando dovrò tornare qui per condurre il mio late io sei mesi a Los Angeles e sei mesi a Las Vegas da Tony che vita incredibile davanti a te hai la ragazza più figa del mondo conquistala ciao sono Jody ciao sono Jody sperando che non ci sia casino perché non capiscono mai le ragazze quando dico Jody ti ho visto e mi sei sembrata molto carina vuoi venire? Jody? no nel senso vuoi venire vuoi venire con me al bar non mi uscire così da De Achizia ma no nel senso ma no vedi sempre il marcio in tutto ciao carissima io sono Anthony A.Pence nome e cognome cognome d'arte sì cosa facciamo? io tra poco vado via scappi via con me qual era la domanda? va bene così avete mai ricevuto una proposta indecente? no io sì mi hanno proposto tanti anni fa di andare a letto a tre io ero fidanzato ho detto di no e non me ne pento Riccardo Embriano cosa ha il mio amico cosa ha? una comitiva di anziani mi ha chiesto di andare a letto a vestito con loro io mi sono rifiutato cosa c'è di indecente? andare a letto a vestito? ma perché? presto si sono spenti vabbè sono spenti insomma una bajur chi è il più ricco? io penso Jody Jody in realtà possego più cose per il momento e il più povero? sempre io ma dai onesto forza Red Nose forse probabilmente Red Nose ma più che altro perché appena riceve mille euro li spende per comprarsi i compressori per il suo studio questo non vuol dire essere poveri i soldi fanno la felicità? assolutamente no non fanno la felicità però diciamo che averceli sono una comodità ti aiutano a risolvere le situazioni che ti creano degli sprazzi di felicità ecco non fanno la felicità ma ti portano fuori a cena baby avete mai fatto pensieri perversi su un ospite di un vostro video? sì 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 e su chi? ovviamente non te lo dico Jody Beatrice Cosso mia ragazza lo sa qual è la vostra reaction meglio riuscita? l'episodio del collegio 4 dove non avevamo nessun ospite quindi dovevamo dare il 110% di noi e quindi quella l'ultima puntata del collegio 3 con l'irruzione della mamma di Rednos la prima reaction in assoluto era la più spontanea cosa diresti al te stesso di 10 anni fa? Jody sta per arrivare un periodo molto buio per te però mi raccomando stai tranquillo perché passerà prenderai delle stangate pazzesche in testa ma passerà poi ti riprenderai poi ritornerai un po' giù però dopo un po' capirai che sono solo fasi e che hai una bellissima famiglia e anche dei belli amici compra testa nera o Garnier perché fra 10 anni avrai tutti i capelli bianchi per lo stress provocato da questi due e che raga di Anali credici di più sono quasi per piangere falsi avete mai pianto in pubblico? sì io per dire la verità sono uno che piange molto spesso piango ascoltando la musica ma ragazzi in pubblico io piango quasi sempre ai concerti che siano di ultimo che siano di giovanotti o anche allo showcase di un disco di Rednos per l'emozione della musica live io piango sì ho pianto in pubblico per amore detesto piangere però io ti ho visto piangere quasi quasi non ci ho creduto chi fa più fichi fichi? uno di loro due Anthony penso Jody no Jody palesente Jody cioè single mazza ho capito ma single ma ragazzi io non è che sono così libertino cioè io mi devo affezionare a una ragazza io le voglio bene alle ragazze di Rednos Jody non sc***a io almeno due volte a settimana cosa dici? si accorge una volta al mese di te hai detto prima è vero in una scala da 1 a marcio quanto ti senti marcio? marcio marcione marcito chi è il più bastardo dei tre? forse io a volte io sono il più bastardo Tony rimarrete per sempre un trio come Aldo Giovanni e Giacomo? io penso che siccome siamo tre personalità molto forti amo Aldo Giovanni e Giacomo sia chiaro ma noi saremo sempre un trio ma esisteremo anche da singoli nelle nostre carriere se avremo delle carriere poi oltre questa cosa di YouTube e le nostre cose che stiamo avendo singole ecco io sono convinto assolutamente che in questo momento il mio futuro è il tre e il trio e sono anche consapevole del fatto che noi come persone singole abbiamo delle capacità incredibili però ora come ora il trio è quello che sarà il futuro se una cosa è bella e la vivi bene non è detto per forza che devi pensare alla sua fine ora facciamo un po' di pro e contro ok legalizzazione delle droghe leggere pro 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 matrimonio pro pro contro adozioni pro 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 raga di anali contro penso di non avere scelta pro ma come pro? mi piace di vedere farle venire ok adesso facciamo sì o no vai baciare una ragazza al primo appuntamento sì 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 conoscere i genitori della propria ragazza al primo mese sì assolutamente no sì no lei non è la tua ragazza uscita a cena paghi tu? assolutamente sì proprio sì sì se ho i soldi sì aiuteresti un tuo nemico? no sì perché no no sì ti definisci una persona di cuore? sì nì sì hai mai rubato? sì un paio di calamelle all'oratorio sì un paio di schermi al plasma alla media world no no scherzate no ci dismi gli socio comunque sì non gli schermi ma sì sì di tutto avete mai finto una reazione in un vostro video? no sì non è vero assolutamente no jody è scidera i gulp ma non abbiamo mai finto niente al massimo abbiamo rifatto perché abbiamo recato male in realtà no in realtà è tutto live improvvisato quindi no non è possibile farlo no la parolaccia che dite più spesso? porca c***o di o***a ti ricordi la parolaccia che ha detto il tuo vicino? c***o porca c***o cambieresti mai il tuo nome? porca no non è la domanda delle parolacce eh sì perché jody mi sono convinto che sia abbastanza carino come nome però è difficile da comunicare quindi magari quando ero piccolo e gonfiabile spesso dicevo alle ragazzine Daniele direttamente che è il mio secondo nome ma io l'ho già cambiato mi chiamo Antonino mi faccio chiamare Anthony e dei miei amici più stretti Tony quindi l'ho cambiato più volte non so più quante volte potrei cambiarlo ancora sono già red nose cosa siete disposti a perdere per non diventare pelati? ma un 1500 euro se mi arriva col capo della pelata e mi dice ti do entrare pelato e gli offro 1500 euro per non farlo poi se mi deve diventare pelato va vabbè uno dei miei fratelli a scelta? ma poverini mia madre beh sempre sulla parentela siamo anzi mia zia Tanina ti lavi in doccia o in vasca? doccia tutta la vita sai quanti pianti mi sono fatto sotto la doccia quante cantate quanti lacrime lo spiange sempre doccia ho la doccia in tutte le case quindi fichi fichi in doccia o in vasca? doccia vetro via in vasca letto divano tavolo ma non in doccia voglio a spiegare ma è la cazzata più grande che avete fatto nella vostra vita io dopo l'esame di terza media ho fatto un video dove prendevo in giro una piccola gang di quartiere e poi l'ho postato su youtube come un cretino questi mi sono venuti sotto casa giustamente perché in questo video ero imbarazzante quanto gli pigliassi per il c***o senza motivo e poi facevo anche il figo che l'ho messo su youtube veramente me ne sono cercate e io per anni sono uscito di casa un po' col terrore aver limonato una ragazza su netlog un vecchio social di incontri di quando ero ragazzo aver dichiarato amore a lei ragazza di Pioltello molto brava ma molto gentile nonni i suoi amici che mi hanno massacrato di botte sotto casa perché l'ho rifiutata non aver fatto il grande fratello c'erano delle fighe raga chi è il più fortunato in amore? penso... Red Nose ma solo perché so il passato di Anthony Red Nose solo perché non so il passato di Red Nose e so il presente di Jody io e il più sfigato? io Jody perché so il presente di Jody dai non voglio dirlo Jody se doveste tornare indietro cambiereste qualcosa? si avrei dato meno amore a chi non se lo meritava e più amore a chi ne ho dato meno anche se ne avrebbe meritato di più ti dico di no semplicemente per il fatto che ogni step che tu fai nella vita ti rendono quello che sei adesso non è una frase fatta ma è realmente successo sulla mia pelle sono migliorato grazie a tutto quello che mi è capitato cambierei un po' il setup delle impostazioni generali di comportamento però alla fine sono quello che mi hanno portato qui a parlare a voi quindi non cambierai nulla la prima volta che vi siete visti qual è stato il pensiero che avete avuto sui vostri compagni? Red Nose si è presentato con un altro nome e cognome come Pier Paolo Peroni cioè il socio di una vita di mio padre senza sapere chi fosse mio padre e senza sapere che io fossi figlio di mio padre e questa cosa già mi ha mandato fuori di testo ho detto chi è questo pazzo? e Anthony in realtà ho pensato ah ecco l'amico di Gordon Jody quando l'ho visto ho detto che scemo non scemo questo non scemo non ti conoscevo? no ma veramente Red Nose questo qua è proprio un c***o perfetto bellissima cosa ma no perché sono onesto eh sì poi le persone che si conosce ma Jody è stata amicizia dal secondo uno Tony ho pensato boh questo non andrà da nessuna parte cosa pensate adesso dei vostri compagni? sono miei compagni di vita in questo momento lo vedo più della mia famiglia li vedo più della mia famiglia penso bene a volte non potrei farne a meno in questo momento compagni spalla coronna portante eh di tutto ciò che sono io in questo momento non vedo l'ora che finisca l'hype perché non li sopporto più vi siete mai sentiti inferiore ai vostri compagni? no assolutamente no perché sono una prima donna schifosa io penso ed è anche un mio difetto che non ho detto prima di saper fare le cose meglio degli altri sempre e comunque a volte penso che il mio personaggio danneggi la mia persona però alla fine sono sensazioni passeggere quindi così come arriva questo pensiero lo levo in realtà tu persona e personaggio sei tu sei molto te stesso nel senso sì però avrei voluto nasconderlo cantaci un pezzo della tua canzone preferita fai buon viaggio e non meno male che ha sta canzone preferita oggi ho mangiato un dizionario un dizionario con super mario cheat se c'è una cosa che so è che resto fermo come guardare da un po' qui fuori le vetrino non è è la sua le vetrino è la sua avete mai visto un film a luci rosse no ma vai a cagare jody dai sì e fareste mai un film a luci rosse no perché no però che non sono dotato per farlo no non ci penserei due volte nemmeno se vi proponessero un sacco di soldi ragazzi per 5 milioni di euro forse lo farei cazzo c'è il buco del c***o d'oro anche 500 no che dici 500 euro insieme 500 euro liso 3 esclusa iva placement chi ce l'ha più lungo? penso red nose ma solo perché ha 10 anni in più di noi e fino a 30 anni l'organo genitale maschile è provato che si allunga no dico sei un esperto andrologo andrologo augoi secondo me giodello giodello bello quello col lungo il io penso Tony ha una bella stecca per conquistare una ragazza avete mai inviato una foto di nudo? non per conquistarla una volta conquistata dopo tanti mesi di frequentazione di amore di passione una fotina ci scappa ma è molto è un po' imbarazzante un po' diciamo che io punto sul sorriso per conquistarla non ho bisogno di mandare foto dei attributi genitali maschili una volta l'ho fatto e ha funzionato inspiegabilmente chi è il vostro collegiale preferito? Mario Tricca scrivimi vorrei che tu fossi mio fratello non mi caghi su instagram rispondimi per favore Mattia Scaviglia ragazzi lo porterò sempre nel cuore vado a Relfi come vi ho detto prima nel senso a un certo punto ho finito il progetto su Rai Gulp sono arrivato in one shot agency ho visto sto marcio faceva le cose un po' marcine a un certo punto e allora ho detto posso smarciarlo un po' e ho conosciuto lui e sono entrato in youtube è stato più marcio di me Rednos come sei passato dal rap a youtube? ma youtube mi è arrivato in studio quindi diciamo che mi ha completamente colonizzato Tony come ti è venuto in mente di iniziare a fare video? ma è nato per divertimento una sera di capodanno non sapevo che cosa fare ho fatto un video di 7 secondi l'ho pubblicato ho fatto girare i miei amici sono divertiti e ho pensato poi di iniziare a mettere contenuti sul web anche perché da ragazzino a scuola imitavo i professori un po' scemo non ci ho mai creduto realmente pensavo di dover studiare nella vita invece ho fatto altro ci date un indizio sul vostro prossimo progetto? sarà qualcosa di mai visto prima su youtube Italia sarà qualcosa di complicato da fare ma che allo stesso tempo vi farà conoscere quelli che sono realmente i veri Tony Jody e Rednos ci saranno dei conquilini che affronteranno delle cose e quanto ci farete aspettare? ci vediamo l'anno prossimo ci vediamo l'anno prossimo non molto preparatevi ah non vi ho chiesto una cosa? cosa? lo sapete chi è il trio più forti di youtube Italia? no 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 sono Tony e Pence Tony Rednos Jody il cecchetto il trio più forti di youtube Italia qui l'abbiamo preso e se siete arrivati fino a questo punto del video commentate con oh wow che muschio che muschio oh wow che muschio ah ok il commento di oggi oh wow che muschio va bene mi piace fate una chiusa per questo video e anche quest'oggi termina qui l'episodio del no è un video una video intervista una intervista triple è stato molto bello molto emozionante che marcio che sei Tony guarda voglio ringraziare Jason Gagliani che ci ha fatto da voce narrante ci ha accompagnato in questa intervistona grazie Jason sentite che bella voce oh wow dai basta seguitelo ovviamente su Instagram Jason Gagliani ragazzi grazie mille ci vediamo prossima domenica con un nuovo video bensì il video di Natale il buon Natale da parte nostra ciao